Avventura, coraggio e capacità di resistere a difficoltà estreme in un ambiente come l'Antartide. Sono questi gli ingredienti che caratterizzano l'impresa di Ernest Shackleton, uno dei più grandi esploratori di tutti i tempi, il protagonista di una straordinaria operazione di salvataggio tra i ghiacci. Di lui parlerà il giornalista Luca Pagliari mercoledì 28 giugno alle ore 21 nell'ex chiesa di San Francesco Afano durante l'iniziativa intitolata Un giorno alla volta 28 uomini sulle tracce di un'impresa possibile. L'appuntamento rientra nell'ambito di fuori paese il contenitore culturale di iniziative che introducono al paese De Balocchi. Come annunciato dal presidente dell'associazione Michele Brocchini, al termine dello spettacolo ci saranno anticipazioni sul programma e sul nuovo sindaco della manifestazione che quest'anno torna in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano dal 17 al 20 agosto. Luca, nella splendida cornice dell'ex San Francesco lei narrerà l'impresa di Shackleton nella traversata del continente antartico, ma che cosa fece di così eroico? Beh, forse bisognerebbe dire quello che non fece perché ha fatto tutto quello che umanamente era possibile, e cioè salvare delle vite umane. Così abbiamo spoilerato tutto all'inizio e siamo a posto. Beh, giusto qualche anticipazione. Ecco, è il fallimento più di successo nella storia delle spedizioni. E vuole essere anche una riflessione sul senso del coraggio questa iniziativa? La storia di Shackleton è una storia che si presta a tantissime riflessioni, perché sono 28 uomini che per quasi due anni hanno vagato nel nulla, e quindi è un discorso di relazioni, di leadership, di capacità di conformarsi a nuovi obiettivi. È una storia che veramente contiene tanti elementi. Ci è voluto molto per ricostruirla con tante immagini veramente straordinarie. Quello sono il valore aggiunto, le immagini straordinarie che accompagnano questa narrazione. Dopo questo appuntamento la rivedremo anche al Paese dei Balocchi a fine agosto. Naturalmente sì, quello è un appuntamento fisso, un grande classico, quindi è un'occasione che tutti gli anni mi concedo per fare un qualcosa che arrivi veramente al cuore. Allora vi aspettiamo comunque domani sera alle 21, Chiesa di San Francesco. È una grande abitudine oramai perché questo fuori paese, legato al Paese dei Balocchi, ci sta particolarmente a cuore. A domani!